Musica Ben trovati telespettatori di TV6 Appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 28 dicembre Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte delle regioni del centro nord avremo tempo stabile e soleggiato, mentre sulle regioni del sud Italia avremo tempo comunque sia stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nuvi La ventilazione risulterà moderata e forte dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale calo su tutto il territorio nazionale Nel dettaglio, sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato Tuttavia nel corso del pomeriggio assisteremo ad un un aumento di nuvolosità su tutto il territorio e in particolar modo lungo la fascia costiera A partire dalla serata ma ancora di più della nottata le condizioni meteorologiche vedranno un peggioramento con piogge e rovesci che interesseranno gran parte del territorio regionale Inoltre non escludiamo il ritorno della neve a quote medio-basse fino a 800-700 metri di quota Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento A partire la nottata le condizioni di tempo